bella raga non si vede mai un cavolo pure che ho passato la luce si calma sono del 97 oggi siamo al comics con starace non si vedrà mai nel telefono ma sti cazzi buon regalo bluocco come cazzo raga 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 oh che dici ma oh ma non si da più dici perché 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 questa non voglia di perché ci attacco perché perché io posso non si vede manco perché il pulvistro minchia che schifo sto telefono al mezzo quando manca no io posso la luce la luce grazie ragazzi non c'è n'è svegliere questo è uno dei mizzi vedi è lui cerichezza allora eh non sentiamo più qua ciao ciao a tutti io sono ma lui si struscia è un perversuto è un perversuto cosa ti strusce cosa oh un vlog ma quale bomba starace mi fiderei di starci ma tu si allo è meglio che venresti qua con loro giusto perché poi su youtube si vede meglio allora intervista a x raptor lui vabbè ciao 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 hello mother fucker allo è video fatto video log alla cose cacchi lui è cazzi per starace quello che deve fare l'ospedale 600 cap come 600 cap come cazzo eh che dici l'alice ma puoi l'alice allora raga non volevi toccare mai qua il pornazzo ma qua si strusciano però e sti cacchi aspetta lo metto tipo selfie ragà voglio vedere se funziona italia 1 2 proprio lucaz boh raga e ci rivediamo dentro eh basta studio Patreon sulla video è stata il video alla vostra stella come no oh eh bella click è un vellificato check ready